un saluto da Ivan Papanella ben ritrovati sul canale youtube di Cellulare Magazine oggi conosciamo iphone 16 pro max il modello di punta della rinnovata gamma degli smartphone di casa apple che si struttura anche quest'anno in quattro diverse declinazioni iphone 16 e iphone 16 plus e le due versioni pro 16 pro e 16 pro max queste due ultime versioni si differenziano unicamente per una dimensione del display che è da 6,3 pollici nel caso della versione pro si sale a 6,9 pollici nel caso della pro max qui incontriamo anche una delle prime differenze rispetto al modello dello scorso anno perché il 15 pro max aveva una diagonale da 6,7 pollici personalmente apprezzo moltissima questa scelta per diversi motivi la prima è perché le dimensioni la massa complessiva del telefono sono cambiate di pochissimo il livello di trasportabilità è praticamente lo stesso ma questi 0,2 pollici si sentono come nell'utilizzo quotidiano io ho da sempre apprezzato gli smartphone con dei display così generosi perché permettono di consultare in maniera molto semplice anche qualsiasi tipo di contenuto e vi faccio anche una mia considerazione personale quindi prendetela per quello che essete naturalmente liberi di non essere d'accordo credo che quando ci si rapporta con dei dispositivi così importanti e così costosi un qualche millimetro di più e qualche grammo di più non faccia altro che regalare una maggiore sensazione di solidità e anche di accrescere quella sensazione premium che questi smartphone devono assolutamente rendere a chi decide di acquistarli a questo punto non posso fare altro che rammentare che questo telefono ha un design iconico riconoscibile che trovo di una bellezza assoluta apprezzo tantissimo questo bordo piatto che oltre ad avere un impatto estetico davvero piacevole regala un grande grip quando il telefono viene utilizzato io l'ho utilizzato per oltre dieci giorni anche con una cover ma si riesce a usare senza problemi bello il modulo della fotocamera belli colori ottima la scelta dei materiali e ancora di più il livello di assemblaggio prima vi parlavo anche di prezzi quindi facciamo fuori subito questa questione che anche abbastanza spinosa in questa circostanza iphone 16 pro max è disponibile in tre diversi tagli di memoria 256 o 512 gigabyte oppure un terabyte i livelli sono 1489 1739 e 1989 euro non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro sono prezzi che sono degni di un prodotto esclusivo che va a collocarsi un po al vertice dei desideri degli amanti del marchio di questo tipo di prodotto ma anticipandovi alcune delle considerazioni che farò alla fine credo che nessuno rimana scontento da questo iphone 16 pro max parliamo velocemente anche delle sue principali specifiche tecniche che ci raccontano della presenza del rinnovato sistema operativo ios 18 e di un hardware anche piuttosto raffinato il sistema on chip è un sistema che viene strutturato a 3 nanometri stiamo parlando di a 18 pro con 6 unità di elaborazione 2 si prendono carico delle operazioni più impegnative ce ne sono 4 invece che gestiscono le restanti attività dello smartphone ci sono anche 6 unità di elaborazione per ciò che riguarda le gpu e anche un sistema a 16 core per ciò che riguarda gli aspetti o meglio le unità neurali l'insieme di queste caratteristiche permetterà anche ad iphone 16 pro max di accogliere senza problemi la apple intelligence quindi l'intelligenza artificiale di apple che si può già utilizzare negli stati uniti che dovrebbe arrivare tra non molto qui alle nostre latitudini quando dovrebbe essere risolto anche qualche questione burocratica tra l'azienda e in particolare la commissione europea manca credo veramente veramente poco l'hardware è ad il poco pronto e disponibile per qualsiasi tipo di carico di lavoro e tornando a parlare di display vi segnalo vi ribadisco 6,9 pollici di diagonale una risoluzione di 1320 x 2868 pixel una frequenza di aggiornamento che arriva a 120 hertz un picco di luminosità di 2000 nits credo che al di là dei numeri abbiamo a che fare con un pannello c'è qualche concorrente che anche un picco di luminosità superiore che in alcune circostanze si vede ma la realtà è che l'esperienza quotidiana è di altissimo livello un display con un resa colore veramente formidabile che si lascia utilizzare anche sotto a una forte illuminazione solare nella parte superiore abbiamo una fotocamera frontale da 12 megapixel con lente f1.9 una fotocamera che apprezzerà chiunque per una serie di motivi perché una qualità complessiva piuttosto buona ma anche perché condivide con non moltissimi concorrenti la possibilità di avere la messa a fuoco continua anche nell'ambito video questo è un grandissimo vantaggio quando non c'è l'operatore che ci sta riprendendo per i content creator ma perché no chi fa anche il nostro lavoro durante le interviste o quando stiamo per esempio presentando un prodotto ci capita spessissimo durante gli eventi avremo la certezza che il prodotto che faremo vedere alla fotocamera verrà messa a fuoco e non non avremo a fuoco soltanto il nostro faccione è una comodità davvero assolutamente importante vi parlavo già poco fa del sistema operativo con degli aspetti tecnici spostiamoci sul profilo di sinistra dove abbiamo il controllo del volume e il pulsante azione non abbiamo praticamente nulla nella parte superiore in quella inferiore abbiamo invece il connettore usb type c microfono principale e l'altoparlante di sistema spostiamoci sul profilo di sinistra qui tra le altre cose abbiamo anche lo sport il carrellino per la sim card lo avevo dimenticato sulla destra abbiamo il pulsante di accensione e un'altra grande novità il pulsante che ci permette di controllare la fotocamera un pulsante con una funzionalità ibrida perché in realtà abbiamo una sensibilità capacitiva della parte superiore del pulsante ma è un pulsante anche che è sensibile alla pressione quindi c'è dentro anche una parte assolutamente meccanica c'è una sorta di doppia corsa che ci permette anche di gestire la fase di scatto ma soprattutto di attivare una serie di funzionalità delle quali tra poco vi vado a parlare parte posteriore tripla fotocamera abbiamo un sensore principale da 48 megapixel f 1.78 un nuovo sensore da 48 megapixel per la ultra wide f 2.2 ritroviamo invece il medesimo sensore con la medesima lente da 12 megapixel con una lunghezza focale corrispondente a 120 mm f 2.8 per la 5 per vi ricordo che il sensore principale che viene chiamato fusion ci permette anche di utilizzare tre focali diverse 24 28 e 35 mm e andando a eseguire un leggero crop del sensore anche una sorta di zoom ottico 2 per che diciamo non raggiunge probabilmente le prestazioni assolute di un zoom ottico autentico di un 2 per vero però se la cava direi piuttosto bene batteria non ci sono dei dati ufficiali almeno non li ho trovati ma in rete mi sembra di aver trovato un numero ricorrente più di altri che è una batteria da 4865 mAh con un sistema di ricarica a 25 watt la batteria ha un buon amperaggio il sistema di ricarica certamente segna il passo rispetto a quasi tutta la concorrenza e certamente rispetto ad alcuni smartphone che sono capaci di quadruplicare quintuplicare addirittura decuplicare questa velocità di ricarica credo che la tecnologia sia matura consolidata sia per la sicurezza di utilizzo ma anche per la longevità delle batterie credo che sia un peccato non trovare su un telefono così è voluto anche un sistema di ricarica più strutturato detto questo mi sembra che iphone 16 pro max rispetto all'anno scorso soprattutto le prime release del 15 pro max abbia un sistema di gestione delle temperature di esercizio decisamente più a punto questo fa sì che il telefono si scaldi decisamente di meno con un impatto positivo anche sulla resa della batteria che di fatto funziona molto bene garantisce un utilizzo piuttosto longevo si arriva sera direi senza il minimo problema allora sblocchiamo lo smartphone con il face id questo mi dà la possibilità anche di raccontare una delle cose che più mi lascia devo dire con tutta sincerità l'amaro in bocca di questo telefono cioè l'assenza di un fingerprint sarebbe stato tanto comodo poter scegliere di utilizzare uno o l'altro sistema ma va bene ormai ci siamo anche quasi in qualche modo abituati entriamo nella cartella delle impostazioni di ios 18 dove troviamo una valanga di possibili opzioni qui c'è le voci generali il centro di controllo le notifiche siri la possibilità di personalizzare anche lo sfondo e anche qui da qualche periodo le ultime release del sistema operativo permettono finalmente permettetemi di dirlo anche un maggiore livello di personalizzazione della parte grafica che personalmente ho trovato sempre come uno dei più grandi limiti degli iphone io apprezzo moltissimo cucirmi lo smartphone addosso come se fosse come se fosse una sorta di abito di sartoria e mi piace disporre le icone in un certo modo di avere una grafica delle icone in un certo modo se è vero o no il cassettino delle applicazioni ecco vedo che c'è un progredire anche da questo punto di vista del sistema operativo e non posso fare altro che esserne contento che cosa volevo però andare ad approfondire il tema della fotocamera perché è uno di quei reparti del telefono che secondo me riesce a dare nel tempo sempre una qualcosa in più soprattutto in ambito video rispetto direi a qualsiasi tipo di concorrente da qui si può già incominciare a intuire il perché perché la parte di impostazioni della fotocamera delle videocamera è veramente veramente molto ben strutturata anche se volevo esaurire subito un discorso per farlo entro nella modalità video perché mi dà la possibilità di approfondire alcuni di questi di questi concetti allora parlando delle novità della fotocamera oltre al pulsante del quale tra poco vi parlerò vi segnalo che siamo arrivati a un ritardo zero nel tempo di scatto anche quando si scatta con le risoluzioni massime con i file più pesanti non è un dettaglio perché vuol dire non perdere magari l'attimo preciso in cui nel quale si vuole scattare anche con la massima prestazione possibile della parte fotografica andiamo però a concentrarci anche sui dettagli del video vi segnalo che nella cartella di impostazioni nel menu superiore a quello che stiamo visualizzando tra le varie scelte c'è la possibilità di attivare la visualizzazione nel menu del video dei di tutti i formati sia del formato ntsc che del formato pal lo riconoscete perché abbiamo le frequenze anche a 25 fps ea 100 fps eccoli qua se invece lavorate sul formato diciamo sul frame sulle fps classici abbiamo 30 60 e 120 la cosa molto interessante che possiamo lavorare col 4k 120 fps anche nei formati più strutturati e cosa importante che in realtà non è un'esclusiva di iphone tutt'altro perché la troviamo ad esempio sugli smartphone di sony ma anche su s24 ultra di samsung abbiamo messa a fuoco continua e la registrazione dell'audio anche in 4k 120 fps questo ci dà la possibilità di utilizzare un file così articolato così strutturato sia per realizzare dei bellissimi slow motion perché vi ricordo che con 120 fps potete rallentare 4 o 5 volte il fotogramma quindi arrivare o a 30 fps o a 24 fps quindi una fase di rallentatore davvero piacevolissima oppure se volete potete mixare il materiale che avete a disposizione perché alcuni frammenti possono essere rallentati alcuni possono essere semplicemente riprodotti a 24 fps ma ancora con l'audio attivo non è un dettaglio credetemi perché quando si eseguono certi tipi di lavori è una grandissima comodità da qui riusciamo a capire quanto sia strutturata la parte video e credo veramente che sia corretto ecco scusate questi sono i pulsantini di quali vi parlavo prima non solo nel menu superiore ma nella stessa pagina ecco qui mostra il formato pal mi riferivo esattamente a questo direi che questo tipo di menu non fa altro che darci la il calibro ecco credo che si possa dire così di quanta attenzione ci sia in ambito video ma prima stiamo introducendo un discorso che poi ho un pochino interrotto nel racconto che riguarda le aspirazioni professionali in ambito foto e video di questo telefono allora abbiamo iphone 16 pro e pro max c'è questa parolina pro che ci sta a indicare che la destinazione d'uso può essere un quella di un prodotto professionale non solo in ambito video fotografico intendiamoci questi telefoni sono dedicati anche a dei professionisti che lo utilizzano magari per editare dividere contenuti file di qualsiasi tipo veramente ci si può sbizzarrire si può utilizzare veramente come un sostituto del computer in moltissime applicazioni in ambito video di foto e video c'è però qualcosa che mi lascia da sempre perplesso soprattutto in riferimento a queste macchine pro non avere una modalità pro inserita nel telefono perché si può controllare si con un cursore il livello dell'esposizione ma credo che chi fa un utilizzo professionale chi è un professionista reale della parte foto della parte video possa desiderare di lavorare sui tempi di otturazione sui valori iso sul diaframma insomma sul su tutti quei valori che vanno a comporre la famosa esposizione in ambito video diventa molto comodo la possibilità di lavorare sul tempo di otturazione in relazione ad esempio al frame rate ecco non abbiamo disposizione a questa modalità trovo che sia veramente un peccato ma vi segnalo soprattutto per l'ambito video che è disponibile l'applicazione di black magic un'applicazione che va a replicare anche graficamente ciò che troviamo sulle macchine di black magic applicazione che potete utilizzare anche sulla serie samsung sulla serie google pixel io lo faccio con entrambi i telefoni e che vi dà la possibilità di controllare tutti questi parametri dei quali stavamo parlando quindi il tempo di otturazione e tutti gli altri valori sia sulla fotocamera frontale che sulla che sulla fotocamera principale detto questo che trovo che sia un pochettino un peccato per una macchina così evoluta passiamo a vedere anche il funzionamento di questo famoso pulsante per la fotocamera intanto vi faccio notare che abbiamo in evidenza la possibilità di utilizzare i formati apple pro raw per ciò che riguarda la parte fotografica e anche il pro res per ciò che riguarda la parte video naturalmente questi file vengono contestualizzati nel nel raffinatissimo ecosistema di casa apple proprio per gestire anche file così complessi ecco da questo punto di vista ci tenevo anche a fare un'ulteriore considerazione credo che quando si parla di strumenti pro sia necessario fare una sorta di divisione allora chi è che può utilizzare un telefono di questo tipo chi ha una disponibilità di denaro tale da poter comprare anche un telefono del genere e scattare quelle foto occasionali da divertimento da ragazzi per documentare la propria vita ad esempio sui social va bene più o meno qualsiasi cosa in quell'ambito quando invece ci spostiamo nel ci spostiamo nell'ambito pro ci sono due categorie ci sono i content creator cioè coloro i quali producono dei contenuti la cui finalità è quella di essere di solito pubblicato sui social o al massimo su qualche sito web poi ci sono i professionisti veri cioè coloro i quali producono fotografie e materiali video che viene venduto a clienti successivi ecco in questo caso ci vogliono naturalmente delle skill diverse tra gli uni e gli altri perché bisogna essere dei professionisti veri sapere che cosa si sta facendo e in quel caso secondo me è molto utile avere la possibilità la disponibilità di questi file non compressi che sono straordinariamente lavorabili chiedono anche macchine potenti eccetera eccetera ma ecco che in questo caso c'è una divisione tra questi tra questi due mondi tra le altre cose vi segnalo proprio parlando di formati che esiste anche un nuovo formato jpeg xl che è molto ricco anche di contenuti quindi facilmente lavorabili così come naturalmente il fregherezzo per ciò che riguarda il video che poi è colorabile poi successivamente in post produzione scusate mi sono dilungato per l'esima volta e ora vado a cliccare una prima volta il pulsante di controllo della fotocamera come potete vedere ha attivato una serie di modalità sulle quali possiamo lavorare quindi ad esempio sullo zoom sul controllo della esposizione facendo un doppio clic entra anche nella modalità che stiamo utilizzando come potete vedere con il 4k 120 fps perdiamo la possibilità di utilizzare sia la ultrawide che la 5 per naturalmente un piccolo limite da dover sopportare per poter utilizzare una un file così complesso anche da da lavorare cosa ne penso di questo pulsante che secondo me è un buon punto di partenza ma merita di essere assolutamente evoluto allora io l'ho apprezzato tantissimo per una cosa a me piacciono molto questi tasti di scatto a portata di indice allora so che mi attirerò le critiche più o meno di mezzo mondo di chi sta guardando questo video io tollero a fatica le fotografie in verticali sarà per un fattore di età e di abitudine sarà perché sono convinto che abbiamo gli occhi disposti in modo orizzontale il mondo lo vediamo in orizzontale io cerco di scattare sempre in orizzontale anche le fotografie ecco in questa circostanza la possibilità di avere il pulsante di scatto a portata di indice secondo me è veramente qualcosa di molto comodo cambia completamente il discorso quando invece facciamo queste benedette foto in verticali ecco allora si va a incontrare con molta meno facilità il pulsante di scatto ma la verità che forse questo pulsante poteva essere reso un pochino più facilmente fruibile io tutte le volte che uso devo come dire resettare la meccanica per ricordarmi la singola pressione la doppia pressione la mezza corsa e così via ma credo che la cosa importante la cosa utile sarebbe stato quello di poterlo personalizzare cioè andare a dedicare al pulsante a questo pulsante alcune funzionalità che magari utilizziamo di più in ambito foto o in ambito video un po come capita in alcuni dettagli del pulsante azione quindi la realtà di poterlo personalizzare completamente devo dire che fa parte delle novità di questo telefono e che forse soprattutto per un'azienda che così è cascato un faro scusatemi un'azienda che così attenta all'esperienza d'uso facilitata mi sarà aspettato qualche cosina in più allora proviamo a eseguire uno scatto anche di questo giocattolino colorato che mi accompagna da un sacco di tempo intanto vi faccio vedere che l'interfaccia di scatto prevede tutte le focali di riferimento 0.5 la 1x se eseguiamo una pressione rapida sull'1x abbiamo l'accesso appunto alla 28 mm e alla 35 mm oltre al 24 mm di base naturalmente poi la 2x e la 5x e un 25x digitale che possiamo utilizzare in diverse circostanze c'è la possibilità di fare attivare anche maniera automatica la macro fotografia eppure la modalità notturna volendo c'è anche la modalità ritratto la modalità spaziale e ora andiamo a vedere anche come il telefono si è comportato in queste modalità di scatto intanto ne approfitto vediamo se trovo se trovo rapidamente un video eccolo qua questo è uno dei video di tanti video che ho girato in queste settimane qui al quartiere city life ma mi interessava farvi vedere che entrando nell'editing video abbiamo questa novità questa importantissima novità che si chiama mix audio vediamo se riesco ad attivarlo eccola qua una funzionalità che ci permette di eseguire un mix direttamente dal telefono del reparto audio prima parlavamo di professionisti della fotografia del reparto video perché non parlare anche del reparto audio che diventa una componente attiva formidabile anche nella resa della parte della parte video ecco da qui possiamo eseguire dei lavori anche ben ben gestiti proprio dalla qualità video abbiamo una modalità standard una modalità in primo piano una modalità studio e una modalità cinema vanno a sostituire l'efficacia di microfoni esterni o di microfoni professionali non credo che siamo ancora arrivati lì vanno a migliorare in maniera importante la qualità della parte audio direi di sì è la cosa molto importante che si riesce a lavorare direttamente dal telefono senza dover esportare la traccia né quell'audio né soprattutto quella quella video quindi direi che è qualcosa che tornerà anche in questo caso molto molto utile ora volevo però andare a fare un'analisi sulla parte fotografica lo vedete è uscito il critto anche qui perché c'era la geolocalizzazione attiva questa foto è stata scattata è stata una delle prime foto che ho scattato rispetto almeno 10 12 giorni fa con con l'iphone 16 pro max mi trovavo per la festa del figlio di un caro amico in alta valtidone c'è questa ruota di un mulino una circostanza di scatto complicatissima perché c'era veramente poca poca luce una circostanza che ha messo certamente in difficoltà la ultrawide del nostro del nostro iphone 16 pro max lo vedete l'immagine è davvero poco leggibile ci sono parti molto scure che si fanno fatica a riconoscere senza dubbio una condizione che ha messo un pochino in crisi questo sensore avrebbe messo in crisi il sensore di qualsiasi altro telefono qui ho lavorato con l'inquadra e scatta la situazione comincia a migliorare con la 1x perché si vanno a cogliere alcuni punti luce che vanno ad aiutare l'esposizione complessiva di questo fotogramma per assurdo è ancora più bella questa immagine scattata con lo zoom con la 120 mm perché anche in questo caso abbiamo colto una parte illuminata va bene se andiamo a zoomare tantissimo ci sarà qualche dettaglio deteriorato ma la realtà che si vedono ancora tantissimi dettagli quindi questa foto è molto bella qui c'è il cambio di passo si attiva la modalità notturna e questa è la resa della ultrawide l'immagine resta diventa visibile un po in tutta tutte le zone del fotogramma la si riesce a leggere c'è un bel livello di disposizione cominciano a comparire anche i colori e c'è un miglioramento deciso del fotogramma stessa cosa con la 1x e ancora meglio con la 120 mm che in questo caso guardate come riesce a rendere ancora ben visibili tutti i dettagli qua invece c'era un fuoco che è stato sceso per scaldarci perché cominciava a fare anche parecchio parecchio freddo diversamente da questa giornata terribile che ha piovuto ha scaricato un sacco d'acqua qui su milano foto invece all'aperto quelle che scato di solito per il test con la ultrawide che secondo me è un ottimo controllo un'ottima gestione anche degli aspetti di prospettiva certamente quando andiamo a eseguire un ingrandimento dell'immagine il dettaglio non è proprio il massimo possibile ma nell'insieme è un'immagine di qualità decisamente buona qui stiamo scattando abbiamo scattato invece con la 1x che si è comportata decisamente bene anche in questo caso il dettaglio viene gestito in maniera molto più opportuna direi molto bene anche la 5x da 120 mm e guardate che cosa ha tirato fuori questa 25x naturalmente digitale o se andiamo a zoomare tantissimo anche qui c'è presenza di rumore un dettaglio un pochino compromesso ma è un'immagine abbondantemente utilizzabile per qualsiasi tipo di utilizzo certamente per la condivisione sui social e perché no per un leggerissimo crop abbiamo anche qualche spazio fotocamera frontale con la inquadra e scatta lo vedete come è presente lo sfondo dietro alla mia alla mia figura ma un'immagine di buona qualità come di buona qualità è questo ritratto eseguito sempre con la fotocamera frontale ma chiedendo allo smartphone di andare a sfocare pesantemente la parte posteriore alla mia figura devo dire che anche in questo caso abbiamo a che fare con un'immagine che è credibile la mia figura è stata ben scantonata non ci sono artefatti devo dire un'immagine assolutamente piacevole qui alcuni dei test video che ho eseguito qui del mangiare che farei bene né a mangiare né a far vedere nel centro commerciale che si trova qui a pochi passi dalla nostra redazione eravamo in interni qui abbiamo la 0 6 per ribadisco un po quello che dicevo prima se andiamo a eseguire uno zoom per andare a cercare dei dettagli dei particolari risulteranno un pochettino compromessi un miglioramento deciso quando si scatta con la 1 per e buona complessivamente anche la prestazione dello zoom ritorniamo nel campo delle difficoltà cioè negli scatti notturni dove abbiamo una sequenza di immagini scattate prima con la modalità automatica e poi sempre con la modalità notturna cosa devo dire devo ribadire ciò che dicevo qualche istante fa lo vedete andando a eseguire uno zoom importante il dettaglio e viene viene compromesso attenzione queste macchie rosse non sono artefatti ma aveva appena finito di piovere quindi il palazzo era completamente bagnato però certamente anche in questo caso devo ribadire che i dettagli non sono proprio la parte migliore della della fotocamera ultra wide deciso miglioramento invece con la 1 per e anche utilizzando lo zoom mi sembra che il comportamento sia di ottimo ottimo livello la situazione tende ovviamente a migliorare quando utilizziamo la modalità notturna perché ci sono dei tempi di disposizione più lunghi una sovrapposizione di immagini quindi il risultato è anche decisamente migliore perché c'è un intervento anche lato software che va a migliorare tutta la tutta la leggibilità delle immagini sia con la ultra wide ancora di più con la 1 per e naturalmente anche con lo con lo zoom poi ci sono queste due immagini che avevo dimenticato di scattare nella sequenza precedente ma ho rimediato subito dopo che sono state acquisite con lo zoom digitale sono praticamente identiche quindi la prestazione resta decisamente buona buona come questo cibo qui forse avrei fatto bene a cancellare qualche immagine perché ce n'è qualche d'una di troppo direi molto molto bene invece questo ritratto uno dei malichini che utilizzo per i miei test fotografici in una parte del mio del mio posto di lavoro come potete vedere lo sfondo è stato perfettamente scantonato ho scattato a f 1.4 perché si può scegliere anche il livello di regolazione di un diaframma che naturalmente è un diaframma simulato ma devo dire che lo sfocato è bellissimo e guardate come sono stati ben riprodotti i dettagli della capigliatura di questo manichino qualche screen che superiamo subito ecco invece maya che è stata che è stata ripresa con due diverse situazioni qui con la 1x devo dire che l'immagine è piuttosto buona c'è un leggerissimo micromosso che ho ritrovato anche in altre situazioni soprattutto quando si scatta in queste condizioni di luce all'interno luce artificiale l'immagine comunque di altissimo valore questa immagine invece è stata scattata con lo zoom sembrano simili ma invece mi sono allontanato moltissimo e ho provato usare lo zoom 5x lo vedete i dettagli sono un pochettino più morbidi ma comunque è un'immagine di altissimo valore mi sono piaciuti anche questi fiori mi sono piaciuti questi fiori questo fiore blu elettrico guardate come si vede bene la trama e come è stato esposto sia questo blu e ancora di più questo rosso che spesso diventa insidiosissimo per quasi tutte le fotocamere non solo quelle dei telefoni invece qui abbiamo una resa della texture perfettamente visibile guardate posso andare a zoomare tantissimo come si vede bene ma ancora di più mi è piaciuta la capacità di esporre correttamente il colore qui una serie di immagini in realtà direi che ma questo è il giocattolino colorato che stavamo vedendo prima ma credo che possiamo fermarci qui per la fotocamera le considerazioni sono quelle che vi facevo qualche qualche istante fa cioè di un reparto fotocamera secondo me molto interessante che credo possa rivaleggiare con gli smartphone più blasonati personalmente credo che in alcune situazioni ci sia anche qualche smartphone capace di fare anche meglio io mi riferisco in particolare a quando si lavora con i formati comuni cioè con i jpeg anche in altissima qualità perché credo che poi andare andare a spingersi sulle considerazioni dei file dei file raw vada a circoscrivere questa fattispecie di utilizzo può a un mondo estremamente professionale e quindi un po a una nicchia il discorso è molto simile anche per ciò che riguarda la parte video però con una differenza credo che anche quando si utilizza la parte con automatismo della parte video iphone abbia letteralmente una marcia in più per ciò che riguarda la fluidità del file la tridimensionalità del file è certamente quanto di più efficace ci sia oggi in ambito smartphone per andare a raccogliere quei contenuti tipici da content creator allora intendiamoci io uso tantissimi smartphone per lavoro ne possiedo diversi che non sono iphone e ci sono alcuni dispositivi che si avvicinano certamente alla prestazione di iphone però credo che mentre per esempio tra top di gamma android ci sia un po un saliscendi qualcuno va meglio da una parte qualcuno nell'altra questo iphone in ambito video è secondo me un passo avanti rispetto a tutti lui è certamente ancora di più se andiamo a spingerci nelle applicazioni di tipo professionale ecco in quel caso secondo me la prestazione è notevolissima mi prendo ancora pochissimi secondi perché volevo eseguire la telefonata solita per parlare della parte telefonica allora la parte telefonica ho chiamato o mobile perché c'è una sim del gestore dentro a questo telefono la parte telefonica è assolutamente soddisfacente nella capacità del sistema di dialogare con la rete quindi nella gestione del segnale c'è un buon volume della parte acustica ma una qualità che avrei preferito un pelino pelino migliore c'è qualche leggero rimbombo qualche rimbalzo di tanto in tanto nulla che vada a inficiare il comfort acustico di quando si usa il telefono nella modalità classica io sono un po rompicato le peste cose e credo giusto segnalarlo andiamo a richiamare anche il browser internet in questo caso è chrome e che cosa dire non fa altro che diventare un benchmark ulteriore di una rotondità di questo sistema operativo che è sempre molto stabile molto veloce molto rotondo in tutte le circostanze anche la navigazione internet diventa parte attiva di queste considerazioni vi chiedo scusa perché sono quasi senza fiato vi chiedo scusa perché questa recensione è durata più di mezz'ora vi chiedo scusa perché sicuramente mi diranno che il video è lungo e potevo dire un sacco di altre cose avete tutti quanti ragione ma ognuno di noi cerca di fare il meglio possibile sono concentrato magari un po di più sulla fotocamera cosa dire di questo smartphone conferma un po tutte le cose positive che conosciamo del mondo apple c'è stata qualche innovazione che ho gradito molto tipo il display più grande una serie di funzioni nell'ambito foto e video rivedibile il discorso di questo di questo pulsante che forse si poteva implementare meglio poi ci sono un paio di dettagli che trovo strutturali che non so più neanche se si possono catalogare nell'ambito dei difetti il fatto che non ci sia un fingerprint peccato perché io continuo ad apprezzare la presenza del jack audio peccato perché da sempre su iphone non c'è la possibilità di espandere la memoria di archiviazione qualcosa che trovo molto comodo ma come vi dicevo sono cose che oramai sono diventate delle assolute normalità e quindi credo che non si possono neanche catalogare tra i difetti di questo telefono che sono assolutamente convinto farà la felicità dei propri acquidenti vi rimando alle prossime recensioni un saluto da iman